Il dato su cui noi dobbiamo riflettere è che anche a livello nazionale la percentuale di positivi rispetto al numero dei tamponi effettuati è passata dal 2% al 12%. Quindi è inevitabile che aumentando il paniere di soggetti positivi al tampone aumenteranno anche quei soggetti che hanno delle fragilità e che avranno bisogno di cure in alcuni casi anche intensive e che avranno necessità di essere ricoverati. C'è anche un problema di posti, lei è qui all'ospedale di Chieti nella clinica di malattie infettive, siete quasi al completo a questo punto? Allora guardi noi siamo già al completo, io al momento non parlerei di crisi anche se non le nascondo che nel momento in cui come il nostro dipartimento sta facendo e cioè rimodella l'attività dei reparti di medicina interna per assistere i pazienti covid è innegabile che lì sono medici che vengono tolti alla loro attività quotidiana e cioè l'ipertensione, il diabete e quindi questo di per sé è un segnale estremamente negativo ed è indice di un momento di crisi. Si è alzata l'età delle persone colpite da questo virus? Ma direi di sì, anzi rimane un concetto assolutamente veritiero che rispetto alla prima fase noi oggi abbiamo il 95% dei tamponi positivi in soggetti che non sviluppano la clinica. Però questo se da un lato può essere consolante come le dicevo, siccome siamo passati dal 2% al 12% di soggetti positivi al tampone sul numero totale aumenta la quota di età che prevede purtroppo una risposta al virus molto peggiore rispetto alle età giovanili. Quali sono le cure che state utilizzando i medicinali e che state utilizzando in questi mesi? Ci sono delle novità sotto questo punto di vista? Ma direi che la novità maggiore rispetto ai mesi iniziali è che è una malattia su cui abbiamo ancora molte cose da imparare ma molte cose le conosciamo. Grandi passi avanti sono stati fatti e vengono fatti sul territorio quindi già il fatto di avere dei giovani medici nelle unità USCA che sono bravissimi e che quindi prendono contatto con i pazienti e fanno una fotografia esatta della clinica di questi soggetti è importantissimo. Si parla tanto del vaccino tutti aspettano il vaccino. Quando arriverà? Ecco guardi a me non interessa in questo momento perché le posso garantire che io e lei mantenendo la distanza usando la mascherina e sanificando le mani arriviamo a un grado di protezione che è molto vicino a quello del vaccino. Quindi in attesa del vaccino che noi tutti speriamo arrivi presto usiamo questi strumenti che abbiamo a nostra disposizione perché hanno dimostrato di essere efficienti ed efficaci. Ultimissima professore, queste chiusure quanto servono? Allora se l'obiettivo è ridurre la circolazione del virus servono, se l'obiettivo è ridurre in seguito alla circolazione del virus la pressione degli ospedali servono, è chiaro che sono misure mi rendo conto molto dolorose, una valutazione esatta sull'impatto, questo è stato fatto in virtù di quella che è stata l'esperienza. Un lockdown a questo punto secondo lei può essere prevedibile? Guardi se i numeri continuano a crescere purtroppo potremmo trovarci di fronte a situazioni che stiamo vedendo in Francia o in altre nazioni. Io mi auguro di no ecco perché prima di arrivare a un lockdown definitivo questa progressiva tra virgolette chiusura che secondo me dovrebbe avere un segnale di coscienza degli individui. Quindi se in questa fase senza arrivare al lockdown generale ognuno di noi acquisisce una maggiore responsabilità sui propri comportamenti forse non ci arriveremo.